PEGI 18 Sento qualcosa che si aggira nell'oscurità Sta succedendo qualcosa di strano Oh madonna come mi sono spaventato Non entrare non puoi salvare Cos'è? Occhio occhio qualcosa si sta muovendo Sta venendo contro di noi No dai io veramente non so No 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 Tormenti di souls Prossimamente sul mio canale